Buonasera coach, oggi purtroppo Alba ha perso contro Roma, un commento tecnico della partita? È stata una partita dura, tosta, loro molto forti, sia fisicamente, autoricamente, ma penso che antichamente abbiamo tenuto molto la nostra concentrazione difensiva, però potremmo dire che abbiamo potuto giocarci la città, loro sono tosti, sono molto tosti difensivamente, hanno giocato con forza, noi ci abbiamo provato, solo che abbiamo purtroppo perso nei momenti che c'hanno un po' il nostro obiettivo che era come muovere la palla in attacco. Non voglio parlare di arbitragio perché non mi piace, anche se penso che sono stati, non è tanto degli errori arbitragi, ma degli errori che non succedono, è un metro arbitragico, perché loro hanno fatto 13 falli, hanno difeso veramente con energia, noi il doppio, quindi non lo so, è solo quello, poi ripeto, loro sono forti, gli auguro vivamente che possono arrivare qui in fondo, e noi sono sempre più consapevoli che sia una squadra buona in cuore, con grande energia, perché nel campionato possiamo giocarci veramente fino alla fine. Secondo lei quanto può avere influito il fatto che ovviamente Elvis Nova non ha giocato ieri e voi... Questo è ovvio, è ovvio, però nelle situazioni come queste sono alibi che tanto sappiamo che esistono, ma va bene, secondo me c'è secondo me in quel momento lì la stanchezza del sistema dei problemi, si gioca talmente con tanta energia, cuore, insomma, è ovvio, è ovvio, niente di eccezionale. Grazie mille Goch.